Siamo in ritardo perché le vicende sul ripescaggio ci hanno portato via del tempo importante, ma era doveroso cercare tutte le strade possibili per rientrare in Lega Pro. Così Enzo Agliano, responsabile dell'area tecnica della squadra Granata che oggi ha incontrato la stampa, per annunciare i progetti della società Alma Juventus Fano, ad intervenire telefonicamente anche il patron Mario Alessandro Russo. Secondo noi comunque c'erano e ci sono tutte le condizioni per poter rientrare. È normale che poi c'è una società alle spalle con il presidente in primis che si sta occupando di questa cosa e vediamo insomma che cosa succederà. Però al di là di questo adesso siamo partiti per lavorare per un campionato di Serie D importante. Sicuramente già i primi acquisti fatti in questi giorni sono dei calciatori importanti per la categoria. Siamo qui a lavorare 24 ore su 24 per cercare di formare un gruppo importante che possa sicuramente portare il Fano nelle posizioni importanti di classifica. Comincia a prendere forma quindi la squadra Granata. Gli accordi sono stati ufficializzati per un centrale difensivo e tre attaccanti. Si tratta di Abel Gigli, Loris Torturi, Antonio Broso e Francesco Casolla. Si proseguirà con altri acquisti di livello. Agliano ha poi parlato dell'allenatore Carmelo Gioffre. Un allenatore giovane con il quale ho già avuto modo di lavorare, una persona seria, per bene e soprattutto preparato. Ha già lavorato con me, ha avuto modo di apprezzare le sue qualità, la sua qualità di gioco della squadra, la sua qualità nel rapporto con i ragazzi e quindi sono convinto che possa far bene. Fino ad ora gli è soltanto mancata un'opportunità importante e questa opportunità importante per lui può essere Fano. È una persona che non è legata a procuratori o a direttori sportivi e quindi fino ad ora, ripeto, non ha avuto l'opportunità giusta. Io penso che Fano possa essere il suo trampolino di lancio. Da lunedì 23 partiremo per il ritiro. Una prima settimana la faremo a Revisondoli in Abruzzo. Dopodiché rientreremo qui a Fano. In questi giorni ci sarà l'annuncio anche di altri calciatori e cercheremo di partire per il ritiro con il 70-80% della rosa già ben definita.